Sto bene fisicamente, ultimamente anche se sono stato sempre in campo qualche pacciacchino, ce l'ho sempre avuto, spero di stare perfettamente bene fisicamente e secondo me posso fare ancora molto meglio, posso fare ancora molto meglio sì. No ma io mi sono sempre sentito fondamentale per Bologna perché l'ho detto anche l'altra volta, non è che uno se non gioca non è fondamentale per il gruppo, tutti quelli che sono il gruppo esplorato di Bologna deve essere fondamentale anche se non vanno in campo perché è così che si creano le grandi stagioni e noi vogliamo fare una grande stagione. Quando ho avuto la possibilità di giocare ai miei livelli ci sono arrivato a Nazionale, poi mi è stata tolta per tante cose e ora sto bene fisicamente, spero di continuare a dare il massimo in campo e vediamo, ma soprattutto si pensa a Bologna, a Salvezza e a qua, poi il resto vediamo. Che voi credete che le mezze punte o i trequartisti o i fantasisti devono fare la differenza, però i trequartisti o i mezze punte sono nella squadra, se la squadra non gira i primi a sentirne sono i trequartisti, i fantasisti, quelli che insomma devono provare, poi sicuramente se la squadra gira allora tocca a noi o può fare forse quella cosa in più, ma l'importante non è fare due partite fatte bene e 28 fatte male, ne fanno i 35 fatte bene, è quello il segreto di fare una stagione importante. Ma pensiamo che in avanti uno si aspetta quel tipo di giocata che nessun altro può fare, insomma. Ho capito. Oltre a partite di Portani. È normale, è normale, però io sono più contento di fare 35 partite a 6 e mezzo che 4 da 8. Il mio modo di pensare è che io vado in campo, esprimo tutto ciò che posso dare fisicamente, mentalmente, proprio mi spremo fino alla fine e quando provo a fare quello che mi riesce. Poi se il pubblico è contento sono ancora più felice, ma io penso che anche se tante volte non sono fantasioso, ma rincorno tutti dal primo al 95esimo, sono più contento io e sono più contento anche loro.